Da Castel Volturno a Castel di Sangro inizia nella città abruzzese il ritiro del Napoli e quindi la stagione calcistica 2020-2021 circondato dall'affetto dei tifosi che sono accorsi in massa qui nella città abruzzese. Castel Napoli rimarrà fino al 4 settembre. Anche tanti tifosi provenienti dal Cilento sono in programma le trasferte da parte del club Napoli Agropoli Paolo Cannavaro e del club Napoli Veliazzurra Pino Rizzo di Ascea Marina. Quindi un momento da vivere assieme alla propria squadra da parte dei tifosi cilentani proprio per rimarcare questo legame, questo profondo affetto ed un tifo che lega la terra del Cilento a Napoli come segnale di orgoglio meridionale per una stagione calcistica che, Covid permettendo, si spera possa portare tante soddisfazioni alla squadra azzurra. Da Castel di Sangro è tutto, Vito Rizzo e sempre Forza Napoli. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori